Buongiorno, oggi vi mostro come realizziamo un filtro particolare, un filtro a molla. Il cliente ci ha inviato un filtro, dobbiamo riprodurlo, ma con interno un vetro infrarosso IR720. Vi mostrerò i passaggi. La prima cosa da fare è la meccanica, quindi realizzeremo una montatura e dopo di che ci posizioneremo un filtro. Grazie a tutti. Il pezzo è pronto. C'è stato tornito. Adesso basterà fare dei tagli assiali e ragiali in modo da poterli piegare così da diventare una molla. Poi inseriremo il filtro. 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 Poi inseriremo il filtro br patronsleo. Grazie a tutti.